prossimo 15 dicembre. Concedetele al più presto gli arresti domiciliari, Stefania sta malissimo. A parlare è il fidanzato di Stefania Nobile, la ricorderete figlia di Vanna Marchi, va incontrato per noi oggi. Stefania Sirtoli. Sono molto cambiate, Vanna fa corsi di cucina e dipinge questi alcuni dei suoi quadri per cui è stata anche premiata. Stefania invece fa statuette di terracotta ed è molto malata. A parlarci di Vanna Marchi e soprattutto della figlia Stefania Nobile in carcere a Bologna dove scontano una condanna a 9 anni e 4 mesi per l'associazione di lauree finalizzata alla truffa e all'estorsione e Davide Lacerenza, fidanzato di Stefania da 4 anni, molto preoccupato per le condizioni di salute della compagna. L'offre di artrite romatoide, una mattia degenerativa. Adesso in questo momento lei non è più autosufficiente, la cura della mamma, non riesce neanche ad alzarsi dal bagno, quindi bisogna sollevarla. Deve protesizzare tutte e due le ginocchia perché ormai sono perso l'uso delle ginocchia e se si aspetta ancora un po' non cambierà più. Davide ci mostra una trentina di perizie dei medici e dei penitenziari dove Stefania è stata detenuta che dimostrano l'incompatibilità con il regime carcerario che dovrebbero aver già fatto scattare, come invece non è ancora accaduto, gli arresti domiciliari. 700 di piastrine, emoglobina 7, con dei valori così rischia un trombo, che parte un trombo, la perdita della vista. Vanna Marchi è in cella con la figlia Stefania, no? Come qualcuno aveva scritto con Anna Maria Franzoni, lei che l'aiuta ogni giorno nei movimenti sempre più difficoltosi. Vanna anche rinunciava a chiedere l'ammissione al lavoro esterno, anche se ne avrebbe maturato il diritto. Ha detto all'avvocato di non chiedere perché non vuole lasciare Stefania, che comunque non è più oltre sufficiente. Torniamo a Milano.